allora Max come va qui in Franciacorta? va benissimo sto facendo delle foto qui nel settore della vigna particolari visioni prospettiche strane sfocati un po di cose così però vedo che usi la reflex sì mi siamo portato anche la reflex ma non è che sia fondamentale adesso sto scattando con la reflex ma si potrebbero usare anche altri strumenti non è che sia fondamentale lo strumento io ad esempio sto usando lo smartphone unicamente lo smartphone ma va benissimo anche perché sono caratteristiche differenti funzionalità differenti quindi si possono ricavare immagini straordinarie indifferentemente con uno strumento con l'altro quindi in questo momento mi va così però mi sa che poi passo allo smartphone anch'io bravo e ultime battute secondo te è meglio la reflex o è meglio lo smartphone guarda dipende da quello che vuoi fare lo smartphone te lo tieni in tasca pronti via immediatamente ce l'hai lì molto leggero molto versatile la reflex al contrario qualità ottica particolare gli obiettivi luminosi più ampi più performante su certe cose però guarda indifferentemente si possono scattare immagini straordinarie con l'uno o con l'altro strumento per cui il consiglio è vuoi alternarli va bene vuoi usarne solo uno va bene indipendentemente da tutto come riterrai opportuno quella sarà sicuramente la miglia fotografia benissimo mi hai convinto grazie ok